Giornata della memoria di una tragedia che continua, una condivisione di dolore per le tante vittime, una condivisione di gratitudine per chi era impegnato e impegnato e continuerà ad essere impegnato e al tempo stesso una condivisione di impegno di tutti, cittadini e cittadine, per poter rendere questa giornata un passaggio per la liberazione di una tragedia che non potremo mai dimenticare.